daniele daniele maestro che c'è come che c'è c'è d'andare a comeano no no veramente comeana vai comeana monta macchina e andiamo ma cosa fa ma che è inglese guida a destra lei scusi si metta la guida che piacere daniele vado mi faccia quel del tempo si va o bellini e tomano ti cazzo e ho sempre a guida io facciamo un po per uno no no allora si fa a mezzo la benzina si fa a mezzo cosa che è in mia la macchina scusi per piacere vado a comeana perché noi 30 giugno siamo a comeana questa domenica alle 21 e 30 alla fiera di comeana via vabbè io voo andiamo